Ciao, creatura! Io sono Eccati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Guzai ASMR. Oggi ti porto già nel regno della creatività. Questa sera ti mostro un'idea regalo che potresti fare, che andremo ad unboxare insieme. Perché io so già cos'è, ma non ho visto come è stata creata e che cosa ha fatto questa artista meravigliosa che ho conosciuto nel regno di Guzai. Perché è una delle mie creature. Io ho un sacco di creature che sono meravigliose, delle artiste, artisti, artiste e anche tanto altro. E come pensai, creatura? Io interagisco con tutte le mie creature e mi piace conoscervi e scoprire tante cose. Quindi non siate timide e scrivetemi pure su Instagram. Questa fantastica creatura, di cui lascerò nell'info box il link utili per andare a vedere le sue creazioni o contattarla per ricevere informazioni su appunto queste cose che fa, che non ha inventato lei, diciamo che lei ha preso spunto, però le realizza col suo stile, quindi è questo. Ha preso spunto da idee di altre, credo su Pinterest, se non sbaglio. Scusami se dico qualcosa di sbagliato, sei pure libera di correggermi nei commenti. E però le realizza col suo stile, quindi questa è tanta roba. E adesso ce le ho qui dentro. Andiamo a unboxare insieme e a vederle insieme per la prima volta, perché anch'io come vedi non le ho ancora viste. E sono molto curiosa, anche se so cos'è, ma non l'ho visto fatto, creato. Ah, ti lascio anche il suo canale YouTube, il suo Instagram e anche il link del suo blog. E poi volevo anche leggere, dato che lei non è riuscita a mettere una letterina, qualcosa all'interno del pacco, le ho chiesto se aveva piacere di far sapere qualcosa riguardo queste creazioni. E allora mi ha mandato un messaggio e poi lo andremo a leggere insieme. Però non vorrei leggerlo adesso perché non vorrei spoilerare qualcosa. E poi perché ho deciso anche di mostrarti queste creazioni e parlartene. Perché la trovo un'idea super originale e carina come regalo di Natale per qualcuno. una famiglia, il vostro migliore amico, la vostra migliore amica, non lo so, però appunto ne parlo in novembre perché dato che non sono stampate ma sono fatte a mano, ci vuole tempo. e quindi per tempo bisogna appunto, diciamo, ordinarle per tempo, ecco. E quindi io prima possibile ti faccio sapere di questa cosa e poi tu deciderai, creatura, che cosa fai. Io ho già visto un dettaglio che c'è. Ebbene sì, lei realizza matriosche. E c'ho la matriosca di Hecate Splendente. Adesso andiamo pian piano a vedere i dettagli e a scoprire che cosa contiene, che personaggi contiene questa matriosca. Allora, intanto, wow, ha dei dettagli bellissimi. Ci sono io con le rune in mano, con questo make-up fantasy che faccio spesso con delle zucche di Halloween dietro perché ci sono i dettagli anche dietro bellissimo, ma spero che metterò comunque le foto su Instagram, quindi seguimi anche su Instagram, creatura. C'è un po' di riflesso perché appunto ha messo il protettivo con le orecchie da elfo sono io uguali a me ok andiamo a vedere sono matriosche di legno dipinte a mano se no non era chiara la cosa sono io con le cuffie cioè guardami, guardami, sono io con le cuffie al microfono in mano con la camicia adoro, adoro cioè sono troppo io ma che bella, è stupenda wow, cioè le sfumature dei capelli sono una cosa wow ogni dettaglio, mi fermo a guardare ogni dettaglio e dico è tutto perfetto vediamo chi c'è dopo ecca te sirena allora il primo era ecca te elfo ah non ti avevo fatto vedere che avevo anche la fogliolina in testa di ecca te versione elfica ecca te versione artista smr e ecca te sirena con i miei bellissimi capelli che mi mancano tantissimo la mia coda azzurra col cioè sono io cavolo ogni mio personaggio cioè sono talmente mostrenata che non so cosa dire è tutto fatto benissimo diciamo quanto mi mancano questi capelli ce n'è un'altra oh non ci credo ci sono io con la mia felpa rossa e blu questa sicuramente è ritratta da una foto che ho su instagram perché me la ricordo che carino quando ero bionda super cute e c'è l'ultimo senti c'è una sorpresa all'interno cosa sarà l'ultimo ti lascio qualche secondo per pensarci piccino 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 mamma mia ma soprattutto come hai fatto a fare dei dettagli così piccoli perfetti ma quanto siete meravigliose creature veramente le creature del regno di cosai penso siano le migliori tra tutte le community in generale le creature del regno di cosai sono le migliori noi siamo i migliori e beh se seguite la divinità giustamente sono il top dei top ok sono troppo curiosa già hai pensato l'hai scritto nei commenti scrivelo nei commenti che cosa potrebbe esserci all'interno di questa ecca te splendente mi ci spiace un sacco che non ci sia più mia nonna perché sarebbe stato divertente mostrargliela ma posso sempre fantarmene in gira e mostrarla a tutti lo stesso ok vado ad aprirlo allora scusami se mi hai visto così queste facce così è perché sono queste facce qui è perché sono emozionata all'idea e allora sapevo già io in realtà che ci sarebbe stato come ultimo personaggio come ultima piccola 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 matrioska però non sapevo che l'avrebbe fatta così ed è wow cioè è proprio da lei da lei intendo non dall'artista ma dalla dal personaggio ed è Sam e direi ma com'è messo guarda guarda com'è messo con il sederino il sederino che mostra spesso nella videocamera ovviamente non sta malizia perché è un gatto però fa ridere c'è anche il suo piccolo sederino un pochettino di sederino e mi fa troppo ridere questa cosa cioè la precisione con la quale ho fatto tutto ciò è incommentabile penso inenarrabile direi col suo piccolo bucchetto di sedere mi fa troppo ridere l'anno di Sam l'anno di Sam credo sia la parte migliore di tutta la matrioska non sto scherzando ovviamente però è tutto troppo bello con molta cura andrò a richiudere tutto perché mamma mia io non so quale sia la mia preferita perché mi piace tutto anzi forse lo so no non lo so in realtà aspetta che non sono neanche un po' pignola la sto mettendo perfettamente dritta come deve essere oddio fa pure questi suoni super belli credo che la mia preferita sia questa non so per quale moce forse perché ha la camicia sono talmente tanto ossessionata dalle camicie che questa è la mia matrioska preferita perché ha la camicia parliamone parliamone io la mia ossessione comunque sono tutte firmate sotto lei si chiama Renata seccatore di questo ho voluto appunto fare un video a parte perché è una cosa troppo particolare quindi ho visto realizzato da lei anche tipo la famiglia con il padre la madre i figli il cane per dire e come idea è tipo geniale bellissima una cosa che non trovi da nessuna parte ed è super personalizzata e può essere una cosa banale ma in realtà è una cosa super sentimentale secondo me da regalare a qualcuno o appunto anche qui vabbè io non ho una famiglia sono malissimo questa cosa cioè siamo via la mia famiglia qui io ho tutti i miei personaggi e Sam e quindi è perfetto per me e appunto l'idea potrebbe essere anche non so alla migliore amica e fa una serie di personaggi tu hai la migliore amica o gli amici e poi lei basta dare le foto gli input e lei realizza le creazioni quindi se volete fare quest'anno dei regali super originali potreste optare per una matrioska personalizzata che sembra sia appunto una cosa molto strana e inutile in realtà secondo me è una cosa che le persone non si aspettano anche perché ormai tutti hanno tutto e le cose personalizzate sono le cose che non trovo in giro sono davvero molto originali è strane anche comunque adesso ti vado a leggere che cosa avrebbe scritto allora ha scritto che i vari particolari che caratterizzano le bamboline li ha presi dai miei video e storie instagram senza seguire un particolare ordine di tempo nella sequenza dal più grande al più piccolo che i personaggi li ha fatti random e lo spunto l'ha preso appunto dai social mi le verrebbero in mente ancora mille versioni diverse del mio personaggio ma per non incasinarsi è andata distinto e ha sottolineato solo alcuni aspetti di me e di ciò che le faccio venire in mente uno dei significati della matrioscata sta nel concetto che il più grande protegge e tiene in seno il più piccolo in questo caso direbbe che ogni bambolina può essere interpretata come una parte di me ciascuno da godire e proteggere in quanto speciale e parte di un tutto unico che belle parole comunque poi mi ha scritto spero che questo regalo sia di buon auspicio e ti possa ricordare sempre di quanto tu sia speciale e penso di poter parlare a nome di tutte le tue creature spero tanto ti piaccia e non ti deluda beh sicuramente non poteva deludermi perché è meraviglioso io ringrazio Renata per questa creazione che non mi aspettavo cioè nel senso sì ne avevamo parlato però siamo che prima che me ne parlasse non mi sarei mai aspettata che qualcuno potesse fare una cosa del genere per me e soprattutto l'idea che una persona riesca a realizzare una versione di te matriosca o della tua famiglia in maniera molto realistica è wow cioè è una cosa non so neanche io cosa dire mi lascia veramente senza parole e fammi sapere che cosa ne pensi creatura qui nei commenti lasciami un bel like ti invito anche a cliccare sui link e andare a vedere le creazioni che fa Renata e e a contattarla per se vuoi appunto anche tu creare queste matriosche da regalare ai tuoi familiari o ai tuoi amici che è meglio contattarla per tempo perché poi quella di Natale insomma ci vuole tempo per farla comunque ho visto che lei su Youtube fa anche dei tutorial artistici e insomma è interessante per tutte le persone creative ma anche per chi spesso mi scrive vorrei anche disegnare ma sono incapaci è soltanto perché non avete non avete la pratica tutto qua perché penso che anche la creatività si possa stimolare magari anche prendendo spunto un po' dalle idee degli altri perché no e poi mettendoci qualcosa di nostro è bello anche avere una community perché ci si può confrontare aiutare la vicenda e la mia community mi piace perché è bella cioè io lo so che sembra che lecco il sedere alle mie creature ma in realtà cioè lo sai creatura che quello che penso lo dico e quindi se mi piace la mia community lo dico e nessuno mi può dire nulla ok allora io ti saluto spero che questo video ti sia piaciuto creatura ma soprattutto ti abbia fatto rilassare e scoprire una cosa nuova che è quella anche molto importante per me ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura